Ciao Roberto e un saluto a tutti gli amici di Veneto Spettacoli di Mistero. Siamo qui a Rovigo per presentare l'evento che si svolgerà sabato 6 novembre. Come vedete alle mie spalle ci troviamo nel parco monumentale delle torri medievali della città. Abbiamo infatti deciso di valorizzare questi spazi e di raccontare la leggenda che riguarda proprio la mitica nascita di Rovigo. La vera protagonista del nostro evento sarà lei, Torre Donà, l'antico mastio del castello. Grazie ad alcuni permessi speciali ottenuti dal comune di Rovigo sarà infatti possibile portare i visitatori all'interno e percorrere insieme a loro la scalinata che porta fino alla venta, alla terrazza panoramica. Quella che sembra la porta dell'entrata di questa torre in realtà trae un po' in inganno. Infatti in questa zona si accedeva alle antiche prigioni di Torre Donà e del complesso del castello. L'ingresso che permette invece la salita fino alla sommità è da questa parte e dovete seguirmi. Eccoci finalmente accanto alla porta che introduce la scalinata. Pensate, 230 scalini ci dividono dalla sommità, dalla terrazza. Ci saranno vari livelli di sosta, l'appuntamento di sabato, e in questi incontreremo gli inquieti testimoni della storia di questo complesso mondo, del castello e della città. A partire da Paolo Cattaneo, il vescovo che secondo la leggenda individuò qui il luogo dove costruire questa fortetta grazie ad un sogno profetico. Avviciniamoci allora all'uscio insieme. Le porte della storia tendono solo di essere aperte. Grazie ad attori, performer ed interpreti riusciremo sabato veramente a calarci, a immergerci nelle pieghe della storia. Grazie. Grazie a tutti.